In questo centenario, il 2023, noi celebriamo i campioni dell'anno scorso, quindi del 2022, quelli che si sono distinti nell'ambito dell'automobilismo sportivo. È importante perché i protagonisti stasera sono loro, quelli che hanno vinto durante questo anno e è importante anche ricordare che non è solo la festa di chi è un grande sportivo, ma è anche la possibilità di ricordare come le gare automobilistiche siano un grande motore turistico recettivo. 60 i campioni dello sport automobilistico premiati da ACI di Arezzo, che quest'anno festeggia anche il centenario della Costituzione dell'Automobile Club. Si tratta dei piloti aretini che si sono contraddistinti nelle gare automobilistiche organizzate nel 2022 in diverse parti d'Italia. Immaginate che nelle gare che vengono ospitate nel nostro territorio accolgono migliaia di persone come pubblico, persone che poi albergano qua, mangiano qua e quindi vivono la nostra realtà e soprattutto è un modo anche per tornarci. Quindi è anche un grande motore economico quello dello sport automobilistico che l'Automobile Club sostiene convintamente e che quest'anno nel centenario ha voluto ricordare con questa iniziativa e con molte altre che si divideranno nel corso dei mesi. Quest'anno abbiamo vinto almeno tre campionati italiani nelle varie discipline autostoriche, autostoriche in pista e in salita con Gregory, con Basagni e Marcello. Poi abbiamo vinto il CRZ con il CRZ che sarebbe il campionato rally di zona e il campione anche Open Rally della Toscana con Mariotti, Davide Mariotti. Quindi sono le soddisfazioni direi non indifferenti. Inoltre abbiamo fatto anche l'assoluto nel trofeo A112 che era appannaggio dei piloti del nord e quindi chiaramente abbiamo portato un primo e un secondo posto anche in quella categoria e credo che sia una soddisfazione non indifferente per quanto riguarda sia l'Automobile Club sia lo sport in generale a retino. Quanta emozione questo premio Piero Comanducci ricevuto? Edoardo, questo premio Comanducci è il dono dei doni perché con Piero abbiamo vissuto gran parte della vita sportiva motoristicamente parlando dal Mugello stradale quando Piero faceva le riprese con la piccola cinepresa e poi con il registratore prendeva l'audio perché da allora le cineprese non avevano l'audio quindi poi nel montaggio doveva mettere i tempi giusti per mettere tutto visibile e ascoltabile. Poi con Piero abbiamo condiviso il primo rally nel Casentino quando lui con Marzio Benincasa con la BMW Correndo si classificò quarto assoluto poi abbiamo condiviso tutte le emozioni con la televisione Arezzo TV il rally di Sanremo, il rally Emotion presentato al Teatro Aristo, Wonderful World e poi i poker rally e poi questo ringraziamento e questa targa la condivido con tutti gli amici di Piero Comanducci chi l'ha conosciuto in modo particolare con la famiglia, la Stefania, la Raffaella, Marcello perché queste sono le emozioni, ringrazio Laci perché Laci ha avuto questa grande bontà perché Piero era Piero e perché, 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 perché